Siamo qui a presentare la rassegna stasera e teatro qui al Teatro Caprilli a Pinerolo. Abbiamo qui con noi le persone che hanno realizzato questa stupenda rassegna che si protrarà fino ad aprire del 2018. Davide, allora, cosa hai da dirci di questa rassegna? È una rassegna che nasce dalla passione, quindi nasce dal nostro cuore e, hai detto giusto, è iniziata questa sera e va avanti per otto serate splendide, speriamo, fino ad aprile. Portiamo qualcosa di nuovo, di fresco e siamo contenti che la Regione Piemonte e la città di Pinerolo abbiano creduto in questo progetto. Cerchiamo di portare a teatro delle realtà nuove, prettamente giovani, di un teatro amatoriale che però è riuscito a fare un salto di qualità e quindi è riuscito a creare qualcosa di veramente unico e questa è la cosa più interessante. Il nostro sogno, ed è una cosa che condividiamo con gli amici della Mellon, è quello di portare la gente a teatro, la gente fuori da casa, la gente a ritrovarsi, ad essere di nuovo in gruppo, in società. Quale occasione migliore di dialogare, fra parentesi, con gli attori invece che semplicemente al cinema dove gli attori parlano e tu ascolti. E questi sono momenti in cui si può finalmente riscoprire il piacere di stare insieme. Non a caso il teatro si chiama incontro. Perché questa varietà di spettacoli così diversi, eterogenei tra di loro e non una rassegna con un filone più sicuro, più preciso? Beh, questa rassegna è basata sull'eterogeneità dei generi, dell'età, delle esperienze, dei testi. Questa sera abbiamo teatro classico, abbiamo anche uno spettacolo giallo di suspense di Agatha Christie, abbiamo una sorta di biografia di Sherlock Holmes, abbiamo un pirandello, un'letteratura italiana, abbiamo delle commedie, abbiamo persino uno spettacolo di improvvisazione che arriva direttamente da Torino. e la rassegna intera è studiata per essere eterogenea, per stupire ogni volta e perché il teatro è una cultura che non deve più essere di nicchia, deve essere a portata di tutti e anche per questo il pubblico deve essere educato a affrontare il più possibile temi vari. Perché il teatro non è reale, cito una persona meccara, il teatro è verosimile. Questa persona meccara, Oliviero Corbetta, un regista di una grandissima esperienza con cui insomma io condivido molto, ha detto il teatro non è come la televisione, non ti siedi e l'accendi. Il teatro è una scelta consapevole, chi va a teatro deve essere rispettato per questa scelta e deve essere consapevole di andare a fare nuove esperienze e questa è la cosa più bella del teatro. avviene in un posto e soltanto in quel posto. Direi che sono condivisibili da tutti, il teatro effettivamente è proprio questo, è condividere qualcosa con qualcuno. Speriamo di vedervi il più possibile a teatro e un saluto dall'associazione Teatrale Mello e da Stasera è Teatro.